Rio Crinaccio, punto e a capo. 48 ore di piogge continue e lavori iniziati e mai portati a termine fanno lievitare, oltre al livello delle acque, anche il malcontento e la preoccupazione per la situazione in stallo da mesi degli abitanti di questa frazione di Fano, che da diversi anni vivono questa condizione. Si sentono limitati nella loro libertà personale di poter vivere a pieno il loro quartiere e in tutta sicurezza, come avviene in ogni altra parte della città, maggiormente poi se questa diventa una necessità legata al proprio stato di salute. Siamo messi in questa situazione veramente degradante, soprattutto perché siamo al mare, siamo al mare e quindi abbiamo appartamenti estivi, turisti, ma anche per noi del posto. Io, vedete, ho la mascherina, mi sono ammalata improvvisamente e mi farebbe bene quando esco dall'ospedale farmi una passeggiata, respirare un po' di aria buona. Abito a due passi, sono costretta a camminare per la nazionale per raggiungere il primo sottopassaggio che è a un chilometro, oppure prendere la macchina che non sempre posso guidare. Mi dispiace, mi dà fastidio questo risagio, oltre a me che ci abito e anche per tutti gli altri. Io ci sto mettendo la faccia, magari qualcuno no, ma la faccia per modo di dire, perché non mi sembra di dire assolutamente niente. Cioè, quello che voglio chiedere al Comune di Fano, i tecnici, i responsabili, le persone di cui si occupano di questo, che cosa hanno intenzioni di fare, che cosa pensano di fare. C'erano tanti progetti e il Sindaco ci aveva dato dei progetti che sarebbero stati portati avanti a breve, ma di fatto è come se ci avessero voluto dare un contentino, prendere, rompere, aprire gli argini o quant'altro, facciamo i lavori. Poi è stato interrotto tutto, creando ancora più disagi. Negli anni passati qui a Ponte Sasso si sono vissuti momenti veramente di grande paura, di grande spavento. Anche oggi bastano poche gocce di pioggia e qui subito si gonfia e si alza il livello dell'acqua. I lavori, al di là del ponte, sono fermi da giugno. È una situazione che per gli abitanti di questa zona risulta essere insostenibile. E chiedono un aiuto all'amministrazione per sbloccare i lavori e portare finalmente questa zona di Fano a un livello di vivibilità accettabile anche per i turisti che sono prossimi ad arrivare. Veramente ci sentiamo abbandonati. Quanto sento parlare di turismo dall'assessore Marchegiani, che mi dispiace dirlo apertamente, ma secondo me lui non sa neanche dove si trova Ponte Sasso. Perché non sa come siamo messi. Magari è il caso che venga a vedere, sentire il carnevale, la corsa delle bighe, tutte queste cose. Noi organizzeremo per la prossima stagione il salto al fosso. Io ho avuto modo di parlare anche con l'assessore Raffanesi, che mi ha dato la massima disponibilità per portare a termine questa progettazione, proprio per fare in modo che un territorio importante come questo abbia la sua valorizzazione e si portino a compimento di determinati progetti. Per cui ho visto una grande disponibilità e adesso ci si augura che questa disponibilità venga concretizzata. Questo me lo auguro, ma sono certo che sarà fatto. Grazie. 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 Grazie.